La nostra cosa è una cosa, come si dice, io mi dico sempre che non mi posso prendere sul segno perché, e vi dico, siccome ancora dormino, vivo, mi piace, mi diverto, siccome fare questo mestiere, la cosa più importante è avere un'allegria insieme al lavoro, perché il lavoro senza dubbio ti arricchisce in una maniera non di muscolo, come quello che fanno, ma insieme al cervello, la fantasia, ed è chiaramente un grande privilegio. Dico, ribadisco il concetto che non mi prendo sul segno, perché la cosa bella è di uscire domani a fare una cosa nuova, avere ancora questa voglia, questo interesse, questa grande curiosità di conoscere il matrimonio, di conoscere la gente, perché tu nasce a parer mio tutto da quello stato di cose, di conseguenza, cosa vuole essere questo? Io ho una cosa, non so se mi ricordo di averle fatto io, però mi diverte e mi mette anche allegria, perché rivedo alcune cose come se fossero state, non so, si usa la sera, ho la sensazione come se sono cose come se le avessi mangiate, se le avessi tagliate e con i denti, quei chiodi arrugginiti, è il periodo proprio che io attrezzavo i biondi, si parla degli anni 60, perciò sai come che c'erano? Sono tutte opere degli anni 60? Sì, fino al 68 neanche, già prima, giusto? E la cosa curiosa, appunto come si diceva prima dei colori, è la defoscheraria, il signor Franco Bartoli e il signor Pasquale di Buff, sono stati praticamente in quel senso lì due angeli, perché io ho fatto sempre quello che mi pare, per riempire la galleria di Iagoidani, pieno di tene colorate, che adesso sono andato a comprarle e non ce l'avevano, ce l'avevano e zetto, cioè la curiosità che ti viene nella scelta del materiale, è curioso come ti suggerisce lo stato d'anima. Adesso arrivando qui ho rivisto queste cose, ho detto ma scusa qui, manca una cosa, manca l'allegria, ma non ce l'ho andato a comprarle e ti ha ricolorato. Senta, passando la vostra vendita del 68, la quale lei partecipò qui a Vadofoschari, che colleghi ha di Bologna, una città creativa, dove va? Sì, ma io ho insegnato anche la creativa, ma io a Bologna ho sempre avuto un rapporto, quasi non si è stato adottato dalla città di Bologna, perché l'ho vissuta, non abitavo a Bologna, ma abitavo a Bologna. Signor, ha avuto un problema con la casa del Neicuno? No, quello è avvenuto dopo, molto spiacevole. Eh, infatti dopo l'ho chiesto, io vorrei non parlarne, però lei lo deve scrivere, io di quella storia... Sì, ma mi dica almeno com'è andata a finire, con che spirito da Bologna. No, ma no, ma io no. Guarda, mi faccio parlare di domani, non di quello che è successo. Non è stata una cosa vera, non è stata una cosa vera. Non so se è colpa di Bologna, io credo che sia colpa di Bologna, del nostro paese, perché noi siamo così, noi siamo maleducati. Non è colpa di Bologna, è l'Italia, gli italiani sono ignoranti e maleducati, molto maleducati. Non è colpa di Bologna, non è colpa di Bologna. Io, io, io devo dire che quella cosa lì, che era un lavoro fantastico, non so, a distanza di tanti anni, era un'idea, era un'idea bellissima, era un'idea che si rivedeva, ma io vinceremo la giornale di Venezia con la Cassa Sistina. Quindi, questa era ancora più grande, ma non era la casa in collina, era veramente un palcoscenico che ospitava una cosa fatta da me e ospitava un altro artista che era, insomma, ed era un teatro. Cioè, non capire quelle cose e a distanza di te devi in più trent'anni. Era 85. E' un oggetto bellissimo. che io volevo che si donasse alla città, ma non al comune, era dedicato alla città di Bologna, cioè al popolo di Bologna, agli abitanti. perché io ho ricevuto, mentre facevo quella cosa, tante di quelle persone dentro questa casa di una carineria, di un interesse, una cosa fantastica. Tutti i giorni venivano i ragazzini dalle scuole. Era veramente incredibile. Dopo tanti anni ho letto una cosa del comune di Bologna. Dove sta la casa di un'ottomale, lo so? E' stata smaltita. No? Smaltita, è diverso, però. È diverso. Non ne parliamo più da breve. Non ne parliamo più. Lei deve solamente esprimere che non voglio parlare di quello. Però può mettere che è stata smaltita perché è veramente offensivo. Non lo meritavo, non lo meritavo. Ma la vostra? Però la gente deve sapere che quella cosa lì, io l'avevo donata a loro, ai cittadini di Bologna. Sì, per essere poi messo dentro la gamba. Sì, quella era la promessa. Ma, cioè, anche se ho parlato anche di come risarcimento, avrebbe dovuto avere una volta personale? Beh, no, non credo che io ho bisogno di essere disarciato con un autista. No, 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 ma io non voglio, io non voglio né l'uno né l'altro. Già, Franco Maraniello è venuto a vedere i miei lavori proprio perché vuole fare questa grande amministrazione a gennaio. Quindi hanno un'altra domanda. Si fa questa cosa, ma non è un po' di risarcimento. Perché a me mi basta e mi avanza, l'isarcimento è stata smantita. E la pure sottolineata, che non è stata l'Italia, non è stata l'Italia. Quindi con che spirito ha avuto Bologna? Ma no, ma no, no, con che spirito? Ma io Bologna è una città che ho amato, che amo ancora. E poi penso che questa mostra è dedicata a Franco Marto, che non c'è più, ma che c'è e a Pasquale. Perché sono state due persone, almeno per me, ma credo nel contesto dell'arte contemporanea, dei primordi, in tutti i sensi. Già il fatto che Pasquale riesce a mettere insieme tutte cose, sono tutte di collezione, io non ho nulla di questo che sta qua dentro. È una cosa molto carina, molto bella, una cosa di affetto. Perché non l'avrei fatta adesso, l'avrei fatta forse contemporaneamente alla mossa a Franco Marto. Però lui è insistito. Io ho grande affetto per la Galleria e per la mia persona di Pasquale e di Franco, che non c'è più. Insomma, c'è un suo rappresentante, Bernardo, ma c'è un mio. Però mi sembra una cosa molto bella, perché i ricordi sono mezzi che veramente hanno 50 anni. C'è quello là, scusate, quello che avevo abbracciato. E comunque Bologna oggi rispetto all'allora, come la trova? Sempre, il dato dal punto di vista artistico a un certo momento. Ma non c'è nulla, no, non c'è nulla in Italia, non solo Bologna. Ma Bologna è una cosa fantastica che vede girare tutti i ragazzi, cose che me li ha altre, sono tutti vecchi ricognitivi. Perché ho visto solo a me dei ragazzini. Ma insomma, io senza dubbio trovo che Bologna è, quel senso lì è molto attiva, ma anche il collezionismo, c'è molto di più a Bologna che è morto uno dei miei contemporanei. Allora dice, è stato sepolto, è stato sepolto a Milagro. Meno male che è morto a Milagro se moriva in Roma. È vero, è vero. Grazie. Però dica quelle cose del Nettuno, perché non voglio entrare nel merito della polemica, perché non è carino. Quando è successo la cosa, poi c'è stata, se a lei sa che c'è stata la causa, no? Eh sì, appunto. Sì, ma appunto non ne parliamo. Ma ci sono state delle novità. Non mi prendo, non mi posso prendere sul serio. Va benissimo. Sì, siccome io devo stare qui ancora molto tempo, ho un appuntamento fra 3.000 anni. Però! No, però! No, siccome non sono un ragazzino fra l'altro, fra un po' di giorni compio 74 anni, ma porca miseria. Quando? Ma io ne ho 47, la verità. Certo, non sei ricordato. Certo, certo. No, ma veramente una cosa che mi dispiace di avere ancora questa volta, è una cosa. Io ieri sera, sta partita sono partito, perché ieri sera io sono andato a casa alle 5.30. Mi voglio divertire perché vivere, ballare, fa bene il cervello. Poi la mattina dopo hai la curiosità di quello che è successo. Hai la sensazione che tu non hai mai fatto nulla. E allora riesci a sviluppare questo entusiasmo e questa carica. Io ancora cammino come un disgraziato. Non è che, voglio dire, non... E non è che lo faccia, no. Lo voglio fare fino al fuoco, fino alla fine. Devo tirare di poi al solito. No, ma veramente lo faccio come lei. Sì, sì, no, ma fa bene. Lo faccio come lei perché non sa che è meraviglia.